Ciao a tutti, io sono Giulia e molti di voi mi conosceranno come Utao Yume, sono un'idol italiana. Mora, Osta, Do, Three, Two, Three, Two, Three, Two… Yaa, think Ya, real cool! Yurari, yurari,揺れている乙女心 Pitch, canari, canari こんにちは皆さん! Tia, Otoyuma! pushes out of the way to the sky! バラライカ!バラライカ!バラライカ可是 ... ... Sì, 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 sì. e 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 Sì, sì. Ma è solo alla Bandai, quindi sono tutte cose originali e professioni Grazie a tutti 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 No, non è vero, non è mai vero No, non è scordata no